Ore importanti in casa Pescara per l'ufficializzazione dei primi movimenti in uscita. Andrea Cocco e Michele Fornasier continuano ad essere i nomi più gettonati sul fronte cessioni. Sul difensore centrale Veneto nelle ultime ore si registra il forcing del Padova che ha superato il Foggia. Nella corsa al giocatore quest'anno mai impiegato dal tecnico biancazzurro Pilon, la squadra di Bisoli è alla ricerca di un difensore e aveva messo gli occhi su Sinisha Andelkovic in uscita dal Venezia. Le difficoltà ad arrivare al giocatore sloveno, su cui ci sono Foggia e Cremonese, hanno fatto svoltare il DS Patavino Zamuner verso Fornasier che in questo modo si riavvicinerebbe a casa, avendo origini nel Trevigiano. Su Fornasier c'erano anche le attenzioni del Monza che però nel ruolo ha appena ufficializzato il tesseramento di Marconi dalla Cremonese. Tuttavia il club di Berlusconi e Galliani è ancora iscritto alla corsa di un altro biancazzurro, Andrea Cocco, che continua ad avere estimatori in società del girone B di Serie C. Dopo aver rinforzato centrocampo e difesa, il Monza cerca il puntello per l'attacco. Sul centravanti Sardo, in scadenza di contratto, sta però facendo ben più di un pensiero anche la ternana dell'ex DS del Delfino Luca Leone. Le Ferre Rossoverdi cercano un centravanti di stazza e Cocco risponde a questo identikit. Proprio la ternana sembra essere in pole position dopo che si sono defilate Pordenone e Vicenza. Si cercherà di formalizzare le operazioni ad inizio della prossima settimana, possibilmente prima dell'8 gennaio, data nella quale i giocatori del Pescara rientreranno dalle vacanze invernali per preparare il girone di ritorno e il primo appuntamento, quello del 20 gennaio contro la Cremonese. Al rientro, peraltro, ci sarà la possibilità per il presidente Sebastiani e il direttore Repetto di confrontarsi con Gaetano Monachello e il suo entourage e verificare se da parte del centravanti siciliano c'è la volontà di restare a Pescara o di guardarsi altrove, ad esempio Ascoli, dove lo scorso anno ben ha fatto sette gol nella seconda parte di stagione. Tra gli obiettivi di mercato del Delfino c'è anche l'acquisizione di un terzino sinistro che possa essere alternativo a Cristiano del Grosso. Nei giorni scorsi si era parlato di Luigi Vitale della Serenitana, ma l'ipotesi sembra poco verosimile dopo che il giocatore, lo scorso novembre, ha prolungato il contratto con la società Granata fino al 2021.